Allora Mengo, volevamo la reazione tutti quanti, la volevate probabilmente voi per il primo. La reazione è arrivata, è stata una battaglia, la portiamo a casa, siamo ancora vivi. Sì, allunghiamo la serie, allunghiamo la serie. Ci eravamo detti prima della partita che per noi era una finale, dovevamo lasciare ogni briciolo di energia sul campo ed è quello che abbiamo fatto. Un primo set che non siamo riusciti a vincere per due palloni, ma sono stati degli episodi a deciderlo. Altrimenti potevamo anche chiuderla in tre set perché abbiamo espresso veramente una buona pallavolo. E quindi dobbiamo continuare a stare positivi, continuare a lavorare in questi due giorni che ci separano a gara 4 Civitanova. Ecco Mengo, gara 4, manca pochissimo ormai, quindi dobbiamo parlarne. Saremo spalle al muro, lo stesso come stasera. È facile dire che ci vorrà la prestazione di stasera, forse ci vorrà ancora migliore giocando fuori casa. Anche lì ci vorrà di tutto, insomma, il miglior Leone, il miglior Camille, la versione migliore di ognuno di noi. E quindi dobbiamo cercare di riposare in questi giorni e sfruttare, come ho detto prima, ogni ora per arrivare alla partita di Civitanova concentrati, pronti, per offrire una bella prestazione anche lì. Grazie Mengo!